Euforia, Chris Nolan, Tedua, Madame, Birt, Aiello, beh insomma un bel team, un bel team per un brano, e allora ovviamente ascolto, è impossibile non dare un parere, inizialmente, a parte parte in inglese così, quindi un attimo ti dà la possibilità di entrare nel mood del brano, mettiamola così, poi parte Madame, che insomma racconta sentimenti della sua età, lo fa bene, non so se quest'autotune così a tratti forzato mi infastidisce, più che l'autotune magari mi sembra forzato un po' il mood inizialmente, no? Anche quando parte Aiello, c'è qualcosa che non mi convince al primo impatto, e Tedua, che generalmente io critico, anche se in passato l'ho stimato, qui mi sembra aver dato tanto, aver dato il giusto, perché lui si dà sempre troppo. Poi dico, sto brano va riascoltato, sto brano non è un brano che ascolti una volta e puoi dare un giudizio, lo riascolto, e si rompe un po' quella barriera di fastidio che dato un po' da un autotune estremo, da tematiche adolescenziali comunque, questa è una canzone teen, se vogliamo, e che è un po', no? Quindi di conseguenza va a toccare delle corde, che è facile, che è riascolto, e mi rendo conto che comunque è un buon brano. Sicuramente uno dei brani migliori di Tedua, che insomma ultimamente non ne ha fatti proprio meravigliosi, mettiamola così, usiamo questo termine esagerato per non dire altro. E che funziona questo gruppo, e che quel forzato forse è semplicemente intenso, magari non è forzato, è semplicemente appunto intensificato il tutto, non è come quando tu vedi, senti un attore che te la butta un po' in un'attualità teatrale particolare, e dici, ammazza che cane, tu sei un cane maledetto sei, però poi invece ti soffermi meglio sull'ascolto, magari ti fermi e dici, cazzo, ma io la sento l'emozione. Forse lui non sta esasperando, ti sta solo dando in una forma professionale, autentica, la battuta così, come la sente lui, magari sincero. E così mi è accaduto con questo brano, mi sono sembrati tutti sinceri a essere sincero io, e quindi questo mi è piaciuto. Allora l'ho riascoltato nuovamente, ed effettivamente in un mondo di canzoni sterili buttate lì, questa è una canzone di cui si ha bisogno. Tedua ricalca un po' una sua metrica, una linea melodica molto sua, quindi non è diciamo inedito, però comunque, vi ripeto, fama non strafà, e quindi molto bene Tedua. Madame è sempre più talentuosa, cazzo, c'è proprio talento questa ragazza, ed è una delle più brave ad affrontare delle tematiche che la coinvolgono in prima persona, quindi tematiche di una ragazza di 16 anni che però riesce a renderle interessante un po' per tutti. Poi mamma mia vederla con il Negramaro X Factor ha dato tanto, cioè è grande, Madame recentemente ha scritto disco di platino, ospite di Negramaro, collaborato qua a X Factor, è ancora un'autostima. Comunque è sincera, Madame, e poi si sta facendo sempre più carina, devo dire, si sta rimettendo veramente a filo rispetto a come era gli esordi, anche se era un po' più natural, era gli esordi, un po' più grassottella, però, cioè, comunque era più se stessa. Adesso è veramente caruccia. Aiello, che da che dolore, non riuscivo più ad apprezzarlo. Ha rifatto una canzone carina, che ho anche recensito, non mi ricordo il titolo, però effettivamente era un po' che non lo riapprezzavo. E invece, vabbè, il direttore d'orchestra, Chris Nolan, la ragazza che canta all'inizio in inglese, non so chi sia, non l'ho capita, non ne parlo. Chris Nolan, direttore d'orchestra, che oltre a fare il beat li mette insieme, dirige un po' questo brano. Bene, no? Bene, perché generalmente quando si fanno queste monster track si fanno un po' la cazzo dei cane. Questo è il tema di quello che ti pare, esercizio di stile, faccio mix, master, butto e vaffanculo, no? Alla defuera, giusto per vendere un pochino. Invece qui si voleva raccontare un sentimento, e quindi anche a livello di click, di guadagno, vai in basso un pochino, perché anche i grossi nomi non sono supportati quando vuoi raccontare un sentimento. E questa è la verità. Nell'industria non c'è spazio per la riflessione, per il sentirsi. C'è spazio solo per la stupidità. E questo è vero, però, insomma, quando hai un grande tuo spazio di seguito e unisci certi artisti, poi c'è la possibilità di arrivare, quindi bene è così. One Love, questo brano mi piace, devo dire. Recensione positiva.